Amici di Onda Libera TV, siamo a Pesaro, davanti alla chiesa della Maddalena, dove sta per iniziare il lavoro teatrale America. Siamo nell'ambito del progetto L'Arte Sprigionata, che è giunto ormai alla dodicesima edizione. Qui con noi ci sono la dottoressa Enrichetta Vilella, responsabile dell'area rieducativa del carcere di Villa Fastigi e coordinatrice del progetto e il regista Francesco Gigliotti dello spettacolo che andrà in scena questa sera. Ecco, alla dottoressa Vilella chiediamo subito, dodicesima edizione, si possono incominciare a fare delle sintesi di questo progetto? Ci sono dei risultati a livello di sensibilizzazione della gente, la partecipazione com'è? La partecipazione è piuttosto alta e negli anni è cresciuta via via, sia per quanto riguarda la partecipazione da parte dei detenuti, siamo riusciti a portarne fuori, si dice così, fino a 10 e quest'anno il numero sarà circa lo stesso, e sia per quanto riguarda la popolazione, i cittadini ed è cresciuta in modo esponenziale, l'interesse è cresciuto, quindi è servito da stimolo da questo punto di vista e durante l'anno, finita la manifestazione, durante l'anno si hanno i riscontri con le persone che entrano nel carcere per svolgere o partecipare o assistere a delle attività, soprattutto studenti, che è molto importante, con i quali cerchiamo di fare dei progetti di prevenzione sulla legalità. Bene, e quest'anno come si svolgerà la manifestazione? Quest'anno ci sono due novità soprattutto, che sono questa di stasera, cioè c'è un'anteprima, è la prima volta che facciamo un'anteprima, il giorno precedente, con questo spettacolo di cui poi parlerà il dottor Gigliotti, che fa parte, che rientra nel più ampio progetto, il progetto Kafka, nei tre laboratori che il Teatro Enigma con Vito Minoia e Romina Mascioli hanno organizzato durante tutto l'anno. Il progetto Kafka perché quest'anno il tema dell'arte esprigionata è dentro la pena, la pena dentro, un tema sul quale i detenuti, con tutti i nostri collaboratori, hanno lavorato per tutto l'anno formativo fino ad arrivare appunto alla manifestazione, come si fa ogni anno. L'altra novità è la cella, cioè portiamo fuori non solo i detenuti ma anche una cella ricostruita dai detenuti stessi e sarà quindi a dimensioni normali e dentro arredata come una cella vera. Insomma, all'interno della cella potranno accedere tre persone alla volta, saranno chiusi dentro, tre perché nelle celle ci sono tre letti a castello e ascolteranno, vivranno questa esperienza detentiva ascoltando il canto 33 bis dell'Inferno che è stato scritto da detenuti che hanno partecipato ai gruppi di lettura. Infine, questa non è una novità, cioè il dibattito finale, però lo sottolineo perché alle 21 appunto ci sarà questo dibattito sul tema della pena con persone competenti come la Silvia Cecchi e Samuele Animali, coordinati con la mediazione dell'assessore Membucci. Allora, Dottor Gigliotti, ci parli un po' del lavoro di questa sera, America, di cosa si tratta, chi è l'autore? Lo spettacolo è più in veste di performance e si ispira al romanzo di Casca, America. È la storia di un sedicenne che si trova a migrare, in suo malgrado, in un paese di cui non conosce nulla e quindi dovrà adattarsi. È un tema che per certi versi è anche molto attuale, come è noto. L'esperienza è stata interessante per quanto riguarda l'integrazione a diversi livelli degli attori, perché come diceva la dottoressa prima, abbiamo di base un gruppo di attori che seguono questa attività e che abbiamo integrato anche con i detenuti che si sono dimostrati molto volenterosi e anche bravi e quindi per noi è stata un'esperienza affrontare questo lavoro insieme e ci sembra di aver un buon risultato. Volevo specificare che il tipo di teatro è più gestuale, simbolico, anche se utilizza dei momenti di dialogo e di parlato. Bene, grazie e complimenti per questa iniziativa e in bocca al lupo anche per che questa edizione vada bene. Amici di Onda Libera, un saluto.